Allerta a meteo giallo sulla regione per l'arrivo di un fronte freddo che porterà ghiaccio e neve, zone più a rischio, il carso triestino, Autovie Venete prepara le contromisure. Accusa del gruppo consiglia del Movimento 5 Stelle in regione sulla gestione del depuratore di Lignano, sversamenti in laguna e acque contaminate in mare. 50 milioni di euro dal Ministero dell'Istruzione per la messa in sicurezza delle palestre nelle scuole, per il Friuli oltre un milione, interventi in scuole elementari e medie. A margine della presentazione della nuova agenzia del lavoro, l'imprenditore Massimo Blasoni si lascia sfuggire a Nabutad, se Pozzo dovesse vendere l'Udinese dice sarei disposto a comprarla. Dopo la sconfitta esterna a Mantova, la GSA cambia, la guida tecnica ha esonerato Cavina, ancora di servo sul successore, il più probabile sembra l'Udinese Alberto Martellossi. Buonasera da Telefriuli, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione sulla nostra regione sta per tornare la neve. C'è stato diramato un allerta meteo per ghiaccio e neve di grado giallo. Tra le zone più a rischio c'è il Carso Triestino. La protezione civile raccomanda la massima vigilanza sul territorio. La protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un allerta di colore giallo per possibili formazioni di ghiaccio al suolo in gran parte della regione, in seguito a deboli nevicate. Tra le zone più a rischio, secondo le previsioni della sala operativa, quelle del Carso Triestino e la pianura pordenonese. Non saranno invece interessate da questa criticità le aree settentrionali della regione. Una depressione si sposta dal centro Italia verso nord-est e da mercoledì farà fluire correnti umide dal sud in quota, area fredda da est nei bassi strati. Saranno probabili quindi deboli nevicate fino a livello del mare, che potrebbero dar luogo a locali formazioni di ghiaccio. La protezione civile raccomanda dunque la massima vigilanza sul territorio al fine di predisporre eventuali tempestive misure di pronto intervento e la deviazione dei piani neve ove presenti. Per giovedì è previsto cielo coperto con precipitazioni sparse, deboli e intermittenti. Sarà possibile neve o pioggia mista neve anche su pianura e costa. Anche Autovio Venete si attrezza per l'arrivo della neve. La concessionaria ha allertato a partire dalle 21 di questa sera a 14 mezzi spargisale pronti ad entrare in azione su tutta la rete autostradale. Individuate 5 tratte di accumulo per i mezzi pesanti. Osservati speciali in particolare i 359 cavalcavia, ponti, viadotti presenti nella rete autostradale dove si concentrano le folate di vento. La sala radio, oltre a inviare messaggi di allerta in caso di nevicate, gelate e mezzi collegati, provvederà anche alla diffusione all'utenza delle informazioni relative alle precipitazioni attraverso i pannelli a messaggio variabile dislocati lungo la rete autostradale e agli svincoli di ingresso. E anche il comune di Udine riattiva la struttura per la gestione delle criticità legate a neve e ghiaccio. È un piano neve articolato e innovativo che mette a disposizione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, oltre ai 20 mezzi spargisale per spazzare la neve dalle strade, 4 squadre per un totale di 8 persone adibite al trattamento degli accessi di scuole, uffici, chiese e servizi. Protezione civile per il trattamento di luoghi sensibili come ospedali, piazze, attraversamenti pedonali, due squadre comunali per monitoraggio e pronto intervento in ausilio con due ulteriori mezzi dedicati oltre al supporto della polizia locale. Il comune di Udine fornisce il sale a tutte le scuole per il trattamento delle pertinenze interne mentre per quanto riguarda i marciapiedi si ricorda che i cittadini sono tenuti a mantenere pulito e percorribile ciascuno il tratto prospicente e la propria abitazione. Una maxi operazione della Polstrada di Roma conclusa con 12 arresti e un centinaio di veicoli rubati scoperti si è spinta fino in Friuli, l'attività denominata Hybrid è coordinata dalla procura romana è durata un anno e ha consentito di arrestare in totale 30 persone tra cittadini italiani e stranieri con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di veicoli, furto, ricettazione con l'aggravante della transnazionalità. Le manete sono scattate grazie all'intervento della sala operativa della questura di Udine a Codroipo. La banda criminale si era specializzata nel recupero di costosi ricambi da macchine rubate e nella vendita in nero di auto di grossa cilindrata. Furti a Sacile, i ladri sono entrati in una casa e hanno rubato due pistole regolamente detenute da una 49enne. Entrano in casa di un 49enne e gli rubano due pistole e alcuni gioielli custoditi in cassaforte. È successo ieri a Sacile tra le 17.30 e le 18.00. I ladri sono penetrati in un'abitazione di via Gardini situata al piano terra, forzando la porta finestra, portando via la cassaforte dove erano custoditi monili in oro e due rivoltelle regolarmente detenute. Pur essendoci l'alarme, il sistema non era stato inserito e gli scuri erano stati lasciati aperti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Polcenigo. Poco prima, tra le 17.00 e le 17.30, in via Carducci, c'è stato un altro furto in casa. Questa volta i ladri sono entrati dalla porta finestra del terrazzo in un appartamento al primo piano di proprietà di un 36enne, arrampicandosi sulla grondaia. Bottino tra paia di orecchini del valore di 1000 euro. A rispondere alla chiamata sono stati gli uomini dell'arma di Fontana Fredda. La scorsa notte la volante del commissariato di Duino, Risina, ha arrestato un rumeno del 75 che deve scontare due anni e sei mesi di carcere, come disposto dal Tribunale di Torino per rapina. È stato identificato su un pullman con destinazione Trapani, fermato dagli agenti per un controllo in località San Giovanni ed è stato poi portato in carcere. Ieri verso le 3 del mattino, gli agenti di una volante della questura di Udine hanno controllato quattro giovani che alla vista dei poliziotti avevano cercato di allontanarsi. Gli agenti a pochi metri dal gruppo hanno trovato una macchina professionale macina caffè, uno zaino pieno di bottiglie e di alcolici sigillati, nascosti tra le auto in sosta. Bloccati dalla polizia, i quattro hanno negato l'evidenza, nonostante uno tenesse in tasca il coperchio di una macchina e un altro avesse in mano una bottiglia. E si è così scoperto che l'area furtiva era stata rubata la sera prima nei bar di un vicino impianto sportivo di rugby e i quattro sono stati denunciati per ricettazione. Continua l'attività della Polstrada friulana che nei giorni scorsi ha visto impegnate le pattuglie in 735 controlli di veicoli, 259 accertamente i conducenti con etilometro tra le persone trovate positive all'alcol test che hanno subito il ritiro della patente complessivamente le infrazioni rilevate sono state 326 con 381 punti decurtati, il ritiro di 7 patenti di guida e di 7 carte di circolazione, inoltre sono stati prestati 133 soccorsi a utenti in difficoltà. Pizzicato anche un mezzo pesante in comune di La Tisana che trasportava brame di ferro e viaggiava con l'autorizzazione scaduta. Infine un conducente straniero è stato multato perché stava fumando in auto con il figlioletto a bordo. Ci spostiamo a Monfalcone che si propone come modello per il contrasto alla criminalità nel territorio goriziano. Monfalcone come esempio anche per gli altri comuni in materia di sicurezza e quanto emerso nel vertice che ha visto la partecipazione del sindaco di Monfalcone Anna Maria Cisinte del prefeito, del questore e del responsabile delle forze di polizia e del commissariato cittadino nel corso del quale sono state esaminate le dinamiche che hanno riguardato il 2018 e stabilite le strategie per i prossimi mesi. Ha funzionato e ha dato risultati significativi il sistema rete che vede la collaborazione con un apposito protocollo delle istituzioni locali e delle autorità statali con l'impiego di una serie di strumenti dei quali la città di Monfalcone è oggi punto riconosciuto di eccellenza. Fiore all'occhiello, il daspo urbano nella forma prevista dal decreto Salvini che ne ha ampliato il raggio d'azione e la rete di videosorveglianza realizzata dal comune a tecnologie avanzate e a riconoscimento facciale che ha consentito alle forze dell'ordine di conseguire durante l'ultimo anno brillanti risultati nel reprimere reati nel territorio. Tanto che anche Ross ne ha chiesto ora l'accessibilità e che è stato un incremento dell'oltre 20% delle persone indagate e assicurare la giustizia nell'ultimo anno grazie a questo strumento. Lo stesso questore ha riconosciuto l'efficacia del daspo e del nuovo regolamento comunale anche come forma di deterrente che tiene lontano i malintenzionati auspicando che gli altri comuni ne seguono l'esempio e la relativa disciplina a dimostrazione dell'efficacia delle disposizioni atte all'allontanamento di coloro che sono fonte di pericolosità. Nel corso dell'incontro sono state anche valutate le strategie per i prossimi mesi che punteranno anche su campagne di sensibilizzazione della popolazione e in particolare verso le frode informatiche sempre più diffuse e verso i giovani per quanto riguarda il contrasto all'uso dei stupefacenti. Arriva dal Consiglio di Stato la parola fine relativa all'elezione del Consiglio regionale. La terza sezione è respinto infatti in via definitiva il ricorso di Franco Bandelli di Progetto FWG e Lanfranco 7 di Fratelli d'Italia nei confronti dell'elezione di Claudio Giacomelli, sempre Fratelli d'Italia. I ricorsi sono stati giudicati infondati e quindi le istanze improcedibili. La decisione conferma quindi la sentenza di primo grado emessa dal Tar e stabilisce in via definitiva la composizione del Consiglio regionale. E dal gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle arriva una denuncia relativa al depuratore di Lignano. Parlano di diversi svestamenti in mare con valori centinaia di volte superiori ai limiti di legge. Sarà deciso da un tavolo tecnico convocato dall'assessore Pizzimenti il futuro del depuratore di Lignano al centro delle accuse del gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle. Sotto la lente infatti ci sarebbero una serie di sversamenti indiscriminati in mare delle acque del depuratore in almeno un caso finite anche in laguna. In alcuni casi il depuratore di Lignano ha sversato acque reflet depurate direttamente in laguna. A noi hanno sempre detto che sarebbe uscita solo acqua piovana invece adesso siamo venuti a sapere che esce anche acqua depurata. E' depurata ovviamente con un impianto che a detta dello stesso gestore è insufficiente a trattare le portate che ovviamente arrivano soprattutto d'estate poi grazie all'afflusso di turisti nella località balneare. Le alte concentrazioni di Escherichia Cole hanno fatto bloccare in più punti della costa e della laguna la raccolta di molluschi. Infatti anche gli sversamenti in mare consentiti hanno però fatto registrare dati allarmanti. Anche se 120 volte i limiti di legge abbiamo avuto sversamenti attestati in autocontrollo dal CAF e noi lo diciamo da due anni. Questi sversamenti poi sono quelli che finiscono nel mare Adriatico dove ovviamente le conseguenze possono essere diciamo più blande visto l'adulizione ovviamente del mare e tutto quello che può essere. Però nonostante questo e nonostante il fatto che qualcuno ci dica che l'Escherichia Cole a contatto con l'acqua salata in teoria muore e dovrebbe dispersi da sola noi le ritroviamo nei molluschi. E allora o l'Escherichia Cole vola direttamente dentro i molluschi oppure evidentemente non è proprio vero che una volta a contatto col mare muoia. E alla denuncia di Sergo il CAF risponde con una nota perché dice sono necessarie delle precisazioni relative a delle inesattezze e alle rate interpretazioni sul funzionamento del depuratore di Lignano. È da dimostrare scrive CAF l'Univo citata alla presenza dell'Escherichia Cole in Laguna e un presunto malfunzionamento del depuratore. Proprio per questo abbiamo commissionato un apposito studio all'Istituto Oceanografico di Trieste per disporre di un quadro complessivo della situazione da parte di un organo terzo e super partes. Lo scarico del depuratore di Lignano è risultato conforme ai limiti di legge per tutta la stagione turistica 2018 e le acque trattate dal depuratore spiega ancora CAF che non sono mai state rilasciate in Laguna. Le analisi di balneabilità sono sempre state conformi alla normativa. Un'animità della terza commissione consigliare per la proposta di legge nazionale numero 3 composta da un unico articolo tramite il quale la fibromialgia l'encefalomielite mialgica benigna e la sensibilità chimica multipla sono riconosciute malattie croniche e invalidanti e quindi che hanno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni sanitarie correlate. Il progetto è firmato da Mara Piccin che era già riuscito a tenere il place dell'aula per il medesimo riconoscimento nella scorsa legislatura e a inviare il testo al Parlamento che però fu sciolto di lì a poco a sottoscrivere con la consigliera di Forza Italia anche i consiglieri di Cittadini Fratelli d'Italia N, Progetto FWG e Lega relatrici per l'aula saranno la stessa Piccina e Simona Liguori dei cittadini tra i firmatari del progetto voto unanime dunque perché tutti d'accordo sulla gravità di tali malattie e sulla necessità di dover intervenire collaborazione piena arrivata anche dall'assessore Riccardi un pacchetto di opere pubbliche stimato in circa 700 milioni di euro che avviato creerebbe un indotto di crescita per l'intero territorio regionale lavori finanziati e mai cantirati per le evidenti difficoltà sofferte soprattutto dei comuni più piccoli comuni che la regione deve affiancare in questo senso e la giunta si è già mossa pensando a una task force di professionisti da affiancare a quegli enti in difficoltà nella gestione delle opere pubbliche ma verso i quali bisogna anche trovare delle soluzioni definitive lo sostiene il gruppo regionale di progetto FWG lo sostiene appunto per una regione speciale che sulla manovra sblocca cantieri ha organizzato il convegno in programma per giovedì prossimo alle 18.30 all'hotel executive di Viale Palmanova a Udine la regione deve trovare un modo per far lavorare le aziende del posto commenta il consigliere Mauro Di Bert il ministero dell'istruzione ha stanziato 50 milioni di euro per la messa in sicurezza delle palestre nelle scuole al Friuli è destinato oltre 1.200.000 euro a Monta a 1.237.791 euro il finanziamento che il ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca stanzia in Friuli Venezia Giulia per interventi di messa in sicurezza o costruzione di nuovi edifici da destinare a strutture scolastiche sportive sono quattro gli istituti in regione che saranno interessati dai lavori di adeguamento sismico degli edifici lo stanziamento totale del MIUR è pari infatti a 50 milioni di euro e ogni regione ha individuato gli interventi e presentato i progetti che poi sono stati approvati a Codroipo è stata approvata la fase esecutiva alla scuola Bianchi per 360 mila euro a Tavagnaco invece si interverrà sulla palestra in comune tra le elementari e le medie per 305 mila euro mentre ne serviranno 353 mila per i lavori alla Pirona di Dignano infine ad Azzano X arriveranno 219 mila euro per sistemare la palestra della scuola elementare Battisti l'economia il rallentamento della produzione industriale tedesca calata per il terzo mese consecutivo a novembre registrando la contrazione più consistente da oltre 4 anni a questa parte potrebbe avere ripercussioni sull'export friulano cresciuto del 32,6% nei primi nove mesi del bienio 2016-2018 e di conseguenza sulla tenuta del sistema manifatturiero è la preoccupazione espressa dalla Presidente di Confindustria Udine Anna Mareschi Danieli evidenziando che i sistemi di produzione friulano e tedesco sono fortemente integrati tra loro nelle catene globali del valore in quanto la provincia di Udine è un importante fornitore di prodotti intermedi e beni capitali e le imprese tedesche la Germania rappresenta il primo partner commerciale per la provincia di Udine assorbendo il 17,9% delle vendite oltre confine percentuale che sale a 26 se si considerano le sole esportazioni in tutta l'Unione Europea 28 in particolare il 34% delle apparecchiature elettriche esportate dalla provincia di Udine nel mondo sono venute in Germania si blocca il servizio di somministrazione del lavoro in Friuli Venezia Giulia che vuol dire che tutti gli enti presenti in regione potranno attivare contratti di questo tipo è l'effetto della sentenza con la quale il Consiglio di Stato ha giudicato alla società Randstad Italia una delle più grandi agenzie del lavoro al mondo la gara di somministrazione di lavoro bandita nel 2016 dalla regione procedura del valore di 15 milioni di euro la commessa economicamente strategicamente più importante di tutto il nord-est da giudicarsela era stata l'agenzia umana che aveva dichiarato di eseguire in proprio tutto il processo delle attività in realtà ha sostenuto Randstad attraverso lo studio legale Brugnoletti associati di Milano umana invece ha fidato a terzi la formazione del personale coinvolgendo così in una commessa pubblica soggetti estranei alla gara in tema di agenzia del lavoro nasce a Udine la prima con sede in regione si chiama Work on Time accendi la passione per il lavoro ora è lo slogan di Work on Time la prima agenzia di somministrazione lavoro del Friuli Venezia Giulia con sede principale a Udine in via Vittorio Veneto e uffici pure in Veneto Lombardia e Piemonte nasce all'interno del gruppo DS Holding del quale fa parte anche Sereni Orizzonti sei mesi fa ho pensato che fosse possibile dare vita a un'agenzia per il lavoro con sede in Friuli Venezia Giulia un'azienda che nasce in Friuli per il Friuli ma che è un'azienda anche nazionale che ha sedi in tutto il nord Italia perché le agenzie per il lavoro il mercato del lavoro non è il mercato fordista quello della catena di montaggio in cui era la catena di montaggio dare i tempi è un mercato che ha assunto caratteristiche di flessibilità di esigenza di formazione costante che sono molto più complesse di quelle del passato e allora le agenzie per il lavoro si impegnano a fare questo a fare da un lato matching mettendo insieme domande e offerta ma d'altro canto cercando anche di contribuire alla professionalizzazione alla formazione sia dei giovani che si apprestano al lavoro sia di chi 50enne magari l'ha perso allora il nostro obiettivo è sostenere l'economia friulana partecipando come dire con una nuova azienda che è come dire un dato positivo partecipando come dire collaborando con le aziende esistenti ma soprattutto con un occhio di riguardo i lavoratori in Italia in Italia non è così facile trovare posti di lavoro stiamo riprendendo ma ricordiamoci questo che se dal 2007 al 2018 in Italia i posti di lavoro sono cresciuti intorno ai 300 mila unità in Germania sono cresciuti di oltre 2 milioni di unità siamo contro il reddito di cittadinanza e a favore di chi il lavoro va e se lo cerca noi aiuteremo a farlo somministrazione e lavoro a 360 gradi siamo un'agenzia che vuole diventare non solo un fornitore di lavoro per le nostre aziende a cominciare appunto dal Friuli Venezia Giulia dai lavoratori dal Friuli Venezia Giulia ma vogliamo scalare nel più breve tempo le classifiche nazionali anche di tutta Italia e la mattinata di oggi ha regalato anche una notizia in attesa con una butad proprio a margine di questa conferenza stampa che prevederebbe l'interesse di Massimo Blasoni anche al mondo sportivo a conferenza conclusa come spesso accade qualche parola con i giornalisti e in mezzo una frase in attesa off records ma che tale non poteva rimanere se Pozzo volesse vendere l'Udinese sarei pronto a comprarla detto Blasoni subito chiedendo di non scrivere nulla di questa uscita tempo fa sarebbe sembrato fantacalcio dieci anni fa giocando sulla moda che impazza sui social del confronto decennale l'Udinese era in Europa e saldamente nelle mani dei Pozzo e il fatturato di Sireni Orizzonti si aggirava attorno ai 30 milioni di euro nel 2019 si era ampiamente superata quota 200 milioni con un Udinese che stenta e che negli ultimi anni si è trovata anche a confrontarsi con l'ipotesi fosse anche solo giornalistica di un'accessione il caso Red Bull quello più emblematico non sarebbe una prima volta per Blasoni nello sport in passato è già stato vicepresidente della Snydero ed è un uomo che ha sempre amato confrontarsi con nuove sfide non solo in campo imprenditoriale Butad per Butad abbiamo provato a chiedere a un esperto di sport e finanza come Marco Iaria giornalista di Gazzetta quanto dovrebbe poter sborsare un eventuale acquirente della società bianconera ovviamente il calcolo a span risulta difficile vanno conteggiati diversi fattori tra i quali gli ultimi fatturati in perdita dopo tanti anni di positivo e i debiti non altissimi per l'udinese ma anche il valore di mercato legato alla volontà o meno di cedere la società in questo senso l'udinese si colloca in una fascia pari a quelli di Bologna Sampdoria Genova Atalanta ma con un fattore determinante che ne alza ulteriormente il valore vale a dire lo stadio dando semplicemente un ordine di grandezza dunque la cifra potrebbe essere non inferiore a 50 milioni di euro ma non superiore a 100 gli stranieri apprezzano sempre di più il mare d'inverno lo dicono i dati relativi alle festività per quanto riguarda Lignano il mare d'inverno piace agli stranieri e piace soprattutto Lignano che a Natale ha fatto registrare un vero e proprio boom rispetto agli anni precedenti i dati sono quelli di promo turismo FWG parlano di un aumento degli arrivi di stranieri tra fine dicembre e primi di gennaio nell'ordine del 35% dai 1139 turisti del 2017 ai 1534 del 2018 in aumento anche gli italiani ma salgono in doppia cifra soprattutto le presenze complessive con un significativo più 18% da 10.875 a 12.819 Lusinghiero è anche il bilancio del presepe di sabbia realizzato sull'Arenile di Lignano visitato da oltre 50.000 turisti l'impegno profuso della regione sta dando ottimi riscontri in tutto il territorio ha commentato l'assessore al turismo Sergio Bini ricordando anche i segnali che arrivano dalla stagione sciistica finora l'incremento delle presenze ai tornelli degli impianti di risalita è stato dell'11% e la vendita degli ski pass è aumentata di circa 100.000 euro rispetto all'anno scorso fino ad arrivare a sfiorare il milione di euro e l'arrivo della neve non fa che aumentare le speranze per una stagione invernale tutta positiva sulle montagne friulane incontro particolare perché oggi si è trovato a transitare lungo la tangenziale nei presi della Ipobanca Tavagnaco infatti spiccava una presenza particolare un appezzamento vicino al palazzo della banca è stato pacificamente occupato da un greggio di pecore con al seguito asini, cani e tanti agnellini uno spettacolo inatteso e che desta ancora a sorpresa strappando qualche sorriso a grandi e piccini per il greggio si è trattato di una piccola sosta per infrancarsi prima di rimettersi in marcia e proseguire il Pasco nel loro lungo viaggio è stato presentato oggi a Palazzo D'Aronco il punto antimobbing del comune di Udine contrariamente a quanto accadeva in passato oggi si rivolgono al punto antimobbing del comune di Udine soprattutto i dipendenti di aziende private a chiedere aiuto sono in maggior numero le donne ma gli uomini non mancano nel 2018 si sono rivolti lo sportello 144 persone i motivi sono soprattutto le angherie subite dai propri superiori umiliazioni eccesso di controllo marginalizzazione anche in seguito all'invecchiamento in alcuni casi i problemi cominciano in seguito a cambiamenti aziendali di proprietà o di dirigente in altri sono mutamenti socio-personali anche psicofisici in questi casi spiega Elisa Asia Battaglia assessore alle pari opportunità del comune di Udine sarebbe molto importante fare prevenzione se si capissero e si risolvessero le situazioni a dirisagio prima che scoppiassero ci sarebbe un risparmio anche dal punto di vista dell'assistenza sanitaria molti cittadini conclude Battaglia hanno trovato un aiuto concreto e reale ai loro problemi si è diffusa una maggiore consapevolezza riguardo alle vestazioni sul posto di lavoro e come si possono affrontare anche se la casistica rimane alta e comprende oggi anche i dipendenti del settore privato il punto antimobbing passato dalla provincia ormai definitivamente chiusa sotto legge del comune continua la sua attività sempre con la coordinatrice Cristina Caparesi e la referente legale Teresa Dennetta nella vecchia sede di Palazzo Belgrado a Udine il passaggio spiega Caparesi non ha fermato la nostra attività gli orari sono sempre gli stessi lunedì e mercoledì dalle 10 alle 13 e giovedì dalle 10 alle 16 i recapiti sono 0432 97 96 81 e antimobbing.udine chiocciola gmail.com La pagina sportiva con una notizia che sembrava tesa dopo il duro commento e le parole con le quali era intervenuto il presidente della PUGSA Udine a seguito dell'ultima sconfitta quella in trasferta sul campo di Mantova oggi appunto sono arrivate le conferme a quella svolta che chiedeva coach Demis Cavina è stato infatti esonerato la decisione è stata comunicata al team nel corso dell'allenamento del pomeriggio e poco prima del nostro telegiornale è arrivata l'ufficialità di questa decisione da parte della società attraverso un comunicato stampa nel quale si ringrazia Cavina per l'operato svolto domani la squadra sarà allenata da un nuovo coach il nome più probabile al momento è quello dell'udinese Alberto Martellossi che nella passata stagione va guidato Ferrara fino a metà gennaio ma in passato si è restituto anche sulla panchina friulana della loro nuova pallacanestro Udine e questa mattina l'udinese ha ripreso la preparazione in vista della sfida di Marassi con elementi della primavera in campo tante le indisponibilità allenamento che si è svolto sotto gli occhi del responsabile dell'area tecnica Pradè assente lasagna le prese con il problema alla spalla in palestra hanno lavorato Cacca e Berami il quale è stato riservato un lavoro differenziato programmato non c'era nemmeno Coulibaly ufficialmente trasferito al Carpi in tema mercato l'ultimo nome per il centrocampo dell'udinese secondo Gianluca Di Marzio e Gerdi Schouten classe 97 dall'Excelsio società che milita in ere divisi in Olanda sul fronte uscite il vicepresidente dell'udinese Campoccia Radio Marte ha confermato invece l'interesse del Napoli per Depol ribadendo però che l'argentino a gennaio non verrà ceduto Campoccia ha poi aggiunto come il nuovo allenatore l'abbia di nuovo messo al centro del progetto ha chiuso poi dicendo se avessimo riscattato Zapata avremmo fatto sicuramente un bel colpo e il giudice sportivo ha inflitto una multa di 2000 euro all'udinese per avere i suoi sostenitori verso la fine del primo tempo intonato un coro nei confronti del direttore di gara in contestazione ad alcune decisioni di Mazzoleni nella partita contro il Parma chiudiamo con una notizia che riguarda il sapadino dello sci Emanuele Buzzi che sarà operato domani a Milano dai dottori della commissione medica della Fisi per la riduzione della frattura alla gamba destra che si è procurato sabato dopo aver conquistato il proprio miglior piazzamento in carriera un sesto posto a Wengen e oggi si è sottoposto a dissonanza magnetica per verificare la stabilità dei legamenti del ginocchio e dalla nostra ultima notizia grazie per aver seguito il nostro telegiornale a voi l'audito di una buona serata su Telefriuli a voi l'audito